Con Zanini e Gomez, ma anche con altri calcatori importanti, è una squadra tra l'altro che ha cambiato anche allenatore, quindi magari ha portato un po' di entusiasmo, anche perché con Erra, se non sbaglio, si sono salvati l'anno prima, una situazione pure complicata, è un allenatore che lui già conosce l'ambiente, quindi magari ha portato già un po' di entusiasmo. Detto questo, non andremo ad affrontare sicuramente la partita come abbiamo affrontato tutte le altre. Io credo che se noi riusciamo a capire che nulla è impossibile per noi, che l'abbiamo dimostrato non solo contro il Catania, ma anche altre partite, ci possiamo levare veramente delle belle soddisfazioni.